La ascensione ad un'ata degli alpini in programma Vicenza e il Biker Fest di Lignano sarà un fine settimana di traffico sostenuto sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Tre le giornate da bollino giallo, secondo le previsioni della concessionaria, a partire da giovedì 9 maggio, quando sulla 23 in direzione Palmanova per l'arrivo dei turisti austriaci e sulla 4 in direzione Venezia i flussi di transiti cominceranno ad aumentare, così anche in direzione Trieste, sempre sulla 4 nel pomeriggio. La stessa direttrice sarà interessata da traffico sostenuto anche nell'intera giornata di venerdì 10 maggio, mentre saranno possibili code e rallentamenti sul tratto Terraglio-Bivio a 57 a 27 nel pomeriggio. Altra giornata da segnare sul calendario per arrivi e partenze sarà quella di domenica 12, quando la coincidenza dell'ascensione e della manifestazione motociclistica a Lignano comporterà possibili code e rallentamenti in prossimità dello svincolo di Latisana, sia entrata, sia in uscita dall'autostrada e sia per chi proviene da Venezia, sia per chi proviene da Udine-Trieste lungo la 4. In particolare i flussi saranno sostenuti tutto il giorno lungo la direttrice Est-Ovest.